E allora ecco che prendono posizione, questa volta andiamo insieme ai Caraibi e arriva un attento all'intima baciata! Alla prossima c'è la ciotola, tutti i nostri spettatori a mettere un attenzione... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonissimi ragazzi, hanno ballato per voi Roberto e Delisa, Marco e Tamara. E allora restate in pista perché arriva anche una scatenatissima salsa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.